Ok, se lui è un po' la prima allante, la prima vertebra, è un po' bloccato in rotazione. E qui invece un po' in flessione laterale. Qui è un po' bloccato e io prendo le aiaia come confermo. Ok, lascia libero. Ehi, è già andato. Adesso vediamo questo in rotazione qui, lascia libero. Ecco, bravo. Invece qui la sua clavicchia su questa parte è un po' fuori posto. Questo lo faremo un po' diverso. Mettendo le mani indietro il colo, lascia libero. Ok. Ciao a tutti, sono il dottor Tone Caruso con il dottor Federico Di Stefano. Adesso abbiamo scambiato un trattamento qualche settimana fa, lui ha bisogno di un altro. Ok, adesso facciamo così. Giro la schiena verso di nuovo. Benissimo, unisci i piedi. Io devo notare, questa è una... un bel camicia. Bravo, bravo, dottore. Ok, guarda giù con la testa. Guarda su. Ok. Un po' più tesa a destra. Sì. Ok, vediamo. Chiudi occhi. Ok, non male. Vediamo, facciamo così. Vai in giro Federico, sieniti qui verso la finestra. Yes. Perché Giacomo vuole luce e vieni dalla finestra. Stiamo imparando. Vediamo, facciamo questa. Tieni questa così. Resisti su. Ok. Anche qui resisti. Ok. Resisti qui ancora. Io spingo giù, tu resisti su. Ok, non male. Vediamo. Ok, sì. Se lui è un po' la prima allante, la prima vertebra, è un po' bloccato in rotazione. Vedi? La scena a Roma. Vedi? La scena. E qui invece un po' inflazione laterale. Vai, pancia in su. Blocco le chirurgie. Ok, già adesso si vede queste piedi girate più a sinistra e queste è così. Ok, vediamo. Lascia libera. È bloccata quasi tutta e due la parte. Anzi, c'è qualcosa qui. That was perché il suo dolore... Ok, lascia libera. Ok. Very nice. Anche qui, non lo so cosa sta facendo. Oh, ecco. Mariglioso. Ok, vai, pancia in giù. Ok, no, non male. Su il bacino è abbastanza bene. Vediamo. Almeno vuoi. Abbastanza ho detto, non perfetto. Allora, ecco perché qui è un po' bloccato. Io prendo le aiaia come confermo. Ok, giro verso di me, dottore. Cosa stai facendo per tenerti in forma adesso? Che stai lavorando così tanto? Lavoro. Ho chiesto questo perché so che non sta facendo niente. Io mando messaggi. Facciamo un po' di... Come si chiama in italiano? Saltare la corda. Saltare la corda perché lui è bravissimo. Oh no, era bravissimo. Dall'altra parte... Facciamo così. Quanto tempo consecutivo faceva il salto la corda? Oh, un'ora. 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 È tantissimo. Tutti voi fuori qui, prendi la corda. Vediamo se puoi fare per un minuto. Un'ora è una bestia, è fantastica. Ok. Ok, lascia libera. È già andata. Pancia in su. Spaziale. Vediamo qui. Io sono un po' più vecchio, mi siedo qui. Anzi, non dovrei bere la cica in la mia bocca perché mastica come una mucca. Ecco. Faccio i botti di Capodanno sulla cervicale. Ok, adesso vediamo. Questo in rotazione qui, lascia libera. Ecco, bravo. Oh, e poi vedi un tatuato qui. Cosa è scritto? Ah, di qua c'è, credo, stay foolish. Ok. Stay hungry di qua. Stay foolish, stay hungry. Ovviamente lui piace Steve Jobs perché Steve Jobs ha detto questa roba. Sì. Ok. Ok, un po' qui anche al laterale. Vediamo, lascia. Ecco, ok. Siediti su verso di qui. Come mai? Per la luce. Lascia così. Ok, brava. Invece qui la sua clavicula su questa parte è un po' fuori posto. Questo faremo un po' diverso. Mettendo le mani indietro al colo. Lascia libera. Ok, benissimo. Lui ha 28 anni e per quello lui è meglio, non è così bloccato come un vecchio come me. Grazie Federico. Grazie a voi, grazie a te. Ciao, ciao.